Ci troviamo ad Avigliano Umbro in provincia di Terni. Siamo in compagnia di Matthew Oldhouse, titolare della Matteo Metalworks. Matthew, questa azienda nasce nel 2022, ma da una lunga esperienza che ha maturato per diversi anni a Londra. Come ha scoperto questa sua vocazione nella lavorazione del metallo? Fin da ragazzino mi è sempre piaciuto costruire. Mio padre aveva tanti strumenti nel garage, mio nonno era un falegname e non vedevo l'ora di andarlo a trovare per creare piccoli oggetti, portapenne, scatole, sgabelli, anche una rampa da skateboard una volta. Mi è stato sempre chiaro che avrei costruito la mia carriera sul fare e sul fare a mano. Non ero particolarmente accademico e quindi sedermi al tavolo dietro al computer non era comunque una via percorribile. Per cui ho seguito la mia passione e scoperto la lavorazione del metallo. Dalle prime quindi esperienze a Londra nella saldatura del metallo ai mobili creativi firmati di Matteo Metalworks qui in Umbria. Da cosa nasce questa nuova produzione? Sì, questa è una nuova produzione. Abbiamo lasciato Londra un anno fa con l'idea di creare questa azienda. Avevo un'altra azienda proprio a Londra che abbiamo chiuso dopo 13 anni. Svolgo infatti questo lavoro da quasi 20. Io e il mio socio abbiamo così deciso di chiudere e di iniziare nuove vite. Con mia moglie avevamo sempre saputo che saremmo finiti qua del resto. Ma è successo tutto al momento giusto. Così con la nostra piccola che aveva allora un anno e mezzo abbiamo noleggiato un camion, caricato tutti i macchinari, guidato da Londra qui in due giorni. Il che è di per sé è stata un'impresa. Abbiamo trovato questo spazio, scaricato, dipinto, allestito e dopo tutte le traversie burocratiche, ora siamo finalmente aperti e pienamente operativi. È sempre stato il mio sogno aprire il mio laboratorio, avere il controllo totale del processo creativo. Qui siamo liberi di avere un'idea, metterla in produzione ed esibirla nello showroom, una condizione davvero ideale per creare. Ci racconti com'è il suo stile, quindi? Lo stile è contemporaneo e lineare. Sono pezzi solidi, fatti per durare, in grado di fare la differenza in una stanza. Questi tavoli sono in acciaio, con piani multistrato betulla e abbiamo utilizzato il colore per caratterizzare queste linee. Come potete vedere dalle pareti dello showroom, amiamo il colore, che applichiamo con la verniciatura a polvere. Pensiamo che questa combinazione di materiali sia particolarmente efficace, ma ci sono molte altre strade che vogliamo esplorare. I suoi mobili sono tutti fatti a mano. Che tipo di mobili fate? Al momento, mobili dedicati principalmente ad uso abitativo. Ma abbiamo anche fatto scaffalature per biblioteche, tavoli per ristoranti e vogliamo espandere la nostra attività negli arredi per locali, bar, co-working space, per interni ed esterni. Le dimensioni sono completamente modificabili. Siamo un'azienda piccola e agile perché è tutto fatto a mano, qui da me. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo creato finora, in un lasso di tempo abbastanza breve, con molte aspettative per il futuro. Si parla molto oggi di sostenibilità, soprattutto anche negli articoli di arredo. I prodotti Matteo Metalworks seguono questa filosofia? Sì, decisamente. Vogliamo essere il più sostenibili possibile. In primo luogo perché facciamo oggetti che sono fatti bene, per durare e che non dovranno essere buttati e quindi riciclati dopo un paio d'anni. Ma una volta esaurita la loro funzione, possono comunque essere riciclati. L'acciaio ha veramente una vita lunghissima ed è 100% riciclabile. Il piano in legno è in gran parte riciclabile o potrebbe essere sostituito. E ci sono molte nuove tipologie di superfici sostenibili da provare, come la plastica rigenerata, che vogliamo utilizzare molto presto per creare dei nuovi pezzi. I suoi mobili sono indubbiamente creativi e innovativi. Abbiamo visto che si prestano a più soluzioni di arredo, dalle case ai ristoranti, ai locali. Quindi siamo proprio contenti che ce li abbia presentati e quindi non le auguriamo altro che un buon lavoro. Grazie.